Oggi mentre noi parliamo Mihailovic viene presentato come allenatore del Milan per un interista Eh lo so, lo so, l'ho pure incontrato in aeroporto tempo fa, lo sapevo già molto prima che ci siamo Vado Milan mi ha detto, vado Milan, vado Milan Quando Mascara sbagliò un rigore, no fece un gol sul calcio di rigore facendo il cucchiaio Lui gli dissero a Mihailovic, hai visto Mascara, hai fatto il colo sul cucchiaio, ma se lui sbagliava io attaccavo il muro